Un appuntamento di assoluto rilievo per fare il punto sulle politiche di prevenzione in un paese dove c'è ancora molto da fare in materia di sicurezza sismica e di sesto idrogeologico. Si tratta del primo meeting nazionale degli agibilitatori che si terrà il prossimo 3 luglio a Pesaro nel quartiere feristico di Campanara. Si riuniranno quindi quei tecnici che prestano la loro opera qualificata in modo volontario e gratuito in occasione di eventi sismici e non solo. Gli agibilitatori sono degli ingegneri formati proprio per l'emergenza, cioè in caso di terremoto o in caso di alluvione si sta facendo la stessa cosa, il professionista, è questo che è importante, in mezz'ora deve decidere se quell'edificio è agibile o no, perché rispetto a quello che lui scrive riempendo una semplice scheda molte volte poi derivano i finanziamenti per i danni ricevuti. Il meeting è promosso dalla Federazione regionale degli ordini degli ingegneri delle marche e dal Consiglio nazionale degli ingegneri in coordinamento con la protezione civile nazionale è stato presentato a Pesaro nel corso di una conferenza stampa. Si svolge nelle marche perché le marche hanno avuto un ruolo importante nella gestione delle ultime due importanti emergenze sismiche, il terremoto dell'Aquila e il terremoto dell'Emilia Romagna. All'Aquila abbiamo dato un contributo come ingegneri professionisti portando sul campo 1500 colleghi, numeri importantissimi che sono indispensabili per poter in tempi rapidi far rientrare le persone nelle proprie abitazioni. In Emilia Romagna abbiamo avuto la possibilità di gestire direttamente 563 colleghi ingegneri che sono stati sul campo per circa due mesi e mezzo appena dopo l'evento dell'Emilia Romagna. Da qui i corsi di formazione specifici che hanno permesso di creare una task force che attualmente conta 350 ingegneri in tutta la regione. Si tratta in percentuale del numero più alto a livello nazionale. Io penso e spero vivamente che la possibilità di dibattere i problemi degli agibilitatori, dei colleghi che fanno volontariamente appunto questa iniziativa, possa allarcare l'interesse da parte di altri colleghi in modo tale che essi siano i più numerosi possibili.